Carlo Benedetti, Presidente del Consiglio Unalusciente, è troppo presto per commentare i voti che stanno arrivando, però insomma su quattro sezioni scrutinate il quadro sembra già essersi delineato abbastanza chiaramente. Sì, ovviamente con molta prudenza e tranquillità, io credo che già i primi dati che sono affluiti all'ufficio centrale testimonino un trend elettorale, cioè che Massimo Cialente è primo in questa corsa di otto candidati. E' che il secondo con una forbice notevole sia De Matteis. Non so, vista l'esiguità del dato sul quale riflettiamo e discutiamo, se questo basti per escludere il ballottaggio oppure confermi la necessità di avere il secondo turno.